Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna d'Andrea Raggini. La giornata di oggi è stata splendida su tutta la nostra regione e anche il fine settimana inizierà con l'alta pressione protagonista e cieli azzurri quasi su tutta l'Emilia-Romagna. Infatti i cieli saranno al mattino azzurri ovunque, poi nel pomeriggio qualche velatura di passaggio non sarà da escludere soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia ma senza addensamenti di rilievo. Per quanto riguarda la ventilazione sarà per lo più debole, il mare è quasi calmo, temperature minime in leggero calo con valori compresi tra 0 e più 7 gradi, anche i valori massimi saranno in calo di 2-3 gradi e saranno compresi tra 12 gradi della costa e punte di 14-16 gradi delle zone interne. Poi la giornata di domenica inizierà con il sole ma la nuvolosità poi gradualmente aumenterà dai settori emiliani. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie a tutti.